per il bite per proteggere i denti definitivi è importante oggi abbiamo qua una paziente con noi in moldavia un saluto intanto a 5.000 persone che ci guardano sul gruppo e questi sono i denti definitivi mordi qua no scherzo faccio un video oggi con questa bella ragazza perché abbiamo parlato di una cosa molto importante che la vita è bella vissuta positiva e gli ho detto stava lavorando dietro cioè stava lavorando sulla paziente il dottor ghezio era dietro la paziente che pensava così era un po pensieroso e gli ho detto non ci pensare ghezio la vita è bella senza pensieri no positiva positiva bisogna essere positivi le donne belle positive come te hanno bisogno di un bel sorriso un bel sorriso e abbiamo fatto dei bellissimi denti infatti gli stavo spiegando che il segreto per un bel sorriso è avere i denti grandi infatti tutte le star della tv se voi notate hanno un sorriso che si vede importante fai un bel sorriso ecco qua che bel sorriso come 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 gli avevi in passato i denti aveva in passato avevo dei denti un disastro sì sì era non servivano niente era non so cosa piovere no 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 non ce l'avevo quello no 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 era la aveva mangiato tutta la l'osso non ce l'avevo l'osso qui me l'hanno me l'hanno trasformato e adesso sono contentissima che bello che il tuo sorriso no veramente complimenti a dottor ghezio che ha fatto un buon lavoro guarda i dottori soprattutto tutti 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 senza essenzione di nessuno tutti bravi però in italia ti dicono non andate all'estero ah sì sì sono pericolosi sono dei banditi guardali qua con la mascherina dai ti lascio lavorare faccio un giro ti lascio lavorare con julian e andiamo dall'altra parte della clinica andiamo andiamo a rompere le scatole di qua al nostro ragazzo oggi vedete qua che siamo nel pieno del lavoro l'altro ragazzo che vedete qua è il nostro Liviu che sta impazzendo questo mese guardate qua tutti i pazienti che ha in lavorazione fai uno scroll questo qui è il software che lui utilizza per tenere traccia di tutti i lavori troppi tanti troppi lavori e questo qua è un software che ci dice esattamente in che stadio si trova il lavoro se è in stadio di scansione, di design, se è stata già stampata la prova se è stata finita poi quella varia, quello step esatto e abbiamo qua anche la data di scadenza quindi lui ha la data di scadenza su questa colonna e verifica da buon supervisor quello che è lo stadio di tutte le lavorazioni bravo Liviu e dovete vedere che Liviu sta anche perdendo i capelli un po' dalla stanchezza poi qua abbiamo invece la vica un'altra postazione di design dove si fa qua altro design anche queste postazioni ormai le conoscete sono quelle che trasmettono e ricevono i file e qua abbiamo invece altri che stanno lavorando questa per esempio è una linea superior denti con lo zirconio che sono quindi stampati da dei dischi di zirconio e vengono poi posizionati al di sopra della barra vedete qua la barra che regge i blocchi di zirconio si fanno blocchi così là dove c'è il foro non c'è il rischio che il dente si stacca e un domani in caso di problemi si va a rifresare e ristampare quindi questa piccola parte io vi faccio un saluto ricordate il segreto per un buon sorriso un bel sorriso e avere i denti grandi ciao